Non ti ricordi il 31 dicembre quella colonna di camion per Boves che trasportava migliaia di tedeschi contro sul cento di noi partigiani e tra San Giacomo e poi la Briboira e Castellare Madonna dei Boschi la si infuriava la grande battaglia contro i tedeschi e i fascisti traditor dopo tre giorni di lotta canita tra tanti incendi e vittime borghesi non sono riusciti coi barbari sistemi oi partigiani a poterci scacciare povere mamme che hanno perso i loro figli povere mamme, povere spose che hanno perso i mariti povere spose, povera Boves che tutta li sfrutta per la barbarie del vile invaso si ammaledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra ha voluto hanno gettato l'Italia nel lutto per cento anni dolor sentirà hanno gettato l'Italia nel lutto per cento anni dolor sentirà lo spettato e l'Italia